Ciao, sono Roberto De Grandi, benvenuto all'introduzione di questo nuovo corso di formazione di Digital Media Marketing. A parte i quadri, le chiese, le opere d'arte, le cose non sono destinate ad essere ammirate per secoli ma a cambiare. Dagli anni 90 ad oggi abbiamo assistito ad un vero e proprio terremoto nell'information technology. Internet ha dato vita ad un mutamento sociale e culturale. Prima dell'avvento di internet la pubblicità promuoveva i prodotti delle aziende con diffusione globale senza selezionare specificatamente il target a cui i prodotti erano proposti. Il potenziale cliente subiva quindi passivamente il messaggio pubblicitario senza poter rispondere. La rete ha cambiato il modo di comunicare, ora grazie ai siti web e dei social network possiamo parlare direttamente con il pubblico che abbiamo selezionato. Proprio così Facebook ci consente di selezionare le persone che sono interessate ai nostri prodotti. Inizialmente a determinare la scelta degli utenti web è stato Google con AdWords ed il suo motore di ricerca ed ha cambiato le regole della pubblicità consentendo all'utente di cercare il suo prodotto. Un sito web per un'azienda è la sua vetrina sul mondo. Non averlo o non usarlo significherebbe non essere presenti sul mercato. Allo stesso modo un sito senza promozione si perderebbe come una goccia nel mare. Cerchiamo di capire perché il digital media marketing è più conveniente dei classici mezzi di comunicazione di massa. Innanzitutto ha un costo ridottissimo rispetto a volantini, radio, giornali e tv locali ed il risultato di visibilità è stupefacente. Vi permette di mettervi direttamente in contatto con i vostri potenziali clienti. Vi permette di aggiornare i vostri clienti costantemente ed anche gratuitamente. Scegliete voi il vostro target, età, sesso, interessi, abitudini, tipologie lavorative, ambienti e luoghi di frequentazione, lingua e tanto altro ancora. La nostra strategia di digital media marketing permette alla tua azienda di acquisire contatti da Facebook, sincronizzarla con i tuoi potenziali clienti precedentemente scelti ed aiutarti a fare strike. Il marketing tradizionale non dà i risultati che può dare il nuovo mondo della comunicazione. Impara a guardare il mondo del marketing da una nuova prospettiva, non rassegnarti a utilizzare mezzi di comunicazione che hai già provato e non funzionano. Osa cambiare, cerca nuove strade.